Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati dalle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca E dicevano, non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro, certamente voi mi citerete questo proverbio, medico cura te stesso Quanto abbiamo udito che accadda a Cafarnao? Fallo anche qui nella tua patria Poi aggiunse, in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia Quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi E ci fu una grande carestia in tutto il paese Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone C'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo Ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman, il Siro All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno Si alzarono e lo cacciarono fuori della città E lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città Per gettarlo giù Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino Pace e bene, ben ritrovati carissimi amici di Padre Pio TV Il Vangelo della quarta domenica del tempo ordinario Si pone in continuità con la pericope evangelica della scorsa domenica Siamo nel contesto della liturgia sinagogale del sabato Gesù allude alla sua missione di Salvatore Presentandosi come l'unto del Padre, colui che dà compimento alle scritture Ma negli interlocutori di Gesù vi è un atteggiamento controverso Coloro che stavano nella sinagoga ad ascoltarlo Prima gli danno testimonianza, poi lo rifiutano con forza E lo cacciano perché il suo parlare diventa inaccettabile Gesù nella sinagoga ricorda la benevolenza di Dio Verso la povera vedova di Sarepta di Sidone E verso Naaman, il Siro Ma questo diventa inaccettabile perché questi personaggi Non erano ritenuti dei membri appartenenti al popolo eletto Così, all'udire queste cose, conclude il Vangelo Tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno Si alzarono e lo cacciarono fuori della città E lo condussero fin sul ciglio del monte Sul quale era costruita la loro città Per gettarlo giù Ma egli, passando in mezzo a loro Si mise in cammino Forse, carissimi amici, questo accade ancora oggi Quando la parola di Dio diventa scomoda nella nostra vita La mettiamo da parte e così anche noi a volte con tanta facilità Passiamo da un atteggiamento di testimonianza Ad uno controverso, opposto, di rifiuto Ecco allora che la seconda lettura Tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostola ai Corinzi Ci ricorda che il vero profeta Sebbene possa accadere, come ci ricorda Gesù sempre nel Vangelo di questa domenica Che nessun profeta è bene accetto nella sua patria Il vero profeta è colui che ama Posso avere i doni più grandi nella vita Ma se non ho la carità a nulla serve Ora dunque, ascolteremo dall'Apostolo Paolo Dopo aver fatto il canto della carità Ora dunque rimangono queste tre cose La fede, la speranza e la carità Ma la più grande di tutte è la carità L'esercizio della carità, carissimi fratelli e sorelle Può scaturire solo da un atteggiamento profondo della vita Da un orientamento che pone al centro la parola di Dio e la persona di Gesù Cristo Scegliere Gesù Cristo significa proprio operare la scelta dell'amore vero nella propria vita E' questo allora anche l'augurio che faccio a me e a voi in questa domenica Imparare a stare dalla parte del Vangelo Per operare sempre e solo il bene Pace e bene e buona domenica a tutti Pace e bene e buona domenica a tutti